Cari amici, buongiorno. Sono Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico di Pordenone, che recentemente ha avuto l'incarico e quindi la fiducia della Regione Friuli Venezia Giulia per essere gestore del cluster Scienze della Vita, del quale vi parlerò con alcuni indirizzi programmatici. Il Polo da una decina d'anni si è costruito una reputazione attraverso l'attività di stimolo alle aziende, si chiamava Polo Tecnologico di Pordenone, oggi con l'espansione territoriale e l'apertura in collaborazione con altri partner in raggruppamento temporaneo di impresa, Bio4Dreams, RB Gates e BioValley, è anche il gestore dell'Urban Center a Trieste, quindi una finestra sul mare, il Polo cambia nome, mantiene le radici, ma si chiama Polo Tecnologico Alto Adriatico. L'idea accettata e promossa dal nostro azionista di riferimento alla Regione, allargato poi a un azionariato privato di essere vicini alle imprese, trasferendo quella che, dicevo, è stata maturata come reputazione ed esperienza del Polo, promotore di innovazione, ci vede oggi impegnati nel rilancio di un'attività assolutamente strategica, così ce l'ha detto l'azionista Regione Friuli Venezia Giulia, che è il cluster scienze della vita. Esiste questo cluster dalla fondazione dei cluster, prima ha avuto altri nomi ma attività comuni, sotto l'assessorato dell'innovazione, lavoro, ricerca e sviluppo, quindi sotto la direzione operativa di Chetti Segatti e l'indirizzo politico di Alessia Rosolen, oggi il cluster si propone come ingranaggio e attore per la promozione dell'innovazione, attraverso la collaborazione dell'impresa e destinato al vasto sistema della sanità regionale ed oltre. Cosa vuol dire ingranaggio, cosa vuol dire questa interpretazione ingegneristica o meccanicistica di un modo di lavorare? Vuol dire che il polo può lavorare come ente gestore, vuol dire che le persone poche, perché la struttura del cluster è una struttura estremamente snella e composta da tre persone più il sottoscritto che ci dedica del tempo per l'indirizzo e lo sviluppo, parte da un documento che si chiama strategia di specializzazione intelligente per la sanità, che è stato elaborato negli anni ultimi scorsi, che è stato discusso, che è stato aggiornato, che è stato interpretato dall'ente gestore che mi ha preceduto e cioè il CBM oggi in liquidazione. Ma mentre i primi passi erano stati positivamente indirizzati alla condivisione della strategia di specializzazione intelligente, oggi il rilancio del cluster va verso l'attuazione di un piano d'azione, potremmo chiamarlo anche piano strategico, quando anche vogliamo tenerlo a tempi brevi, comunque nell'ambito delle traiettorie indicate nella specializzazione intelligente, ma con un attivo coinvolgimento di imprese che promuovono innovazione tangibile verso il grande ecosistema degli ospedali, dei centri di ricerca della sanità e ne abbiamo di numerosi in regione, dei cittadini tutti perché sanità e prevenzione della malattia e cura della malattia quando qualche grana e tra queste anche l'invecchiamento che noi vogliamo far diventare invecchiamento attivo ci costringe a vivere in un modo diverso. Veniamo dunque agli obiettivi tangibili che lascerò in questo messaggio registrato e quindi a distanza di mesi perché il periodo in cui viviamo non ci permette di indecare obiettivi sull'arco dei lustri. Gli obiettivi a cinque anni sono indirizzi di tipo strategico. L'esperienza che abbiamo maturato per lavorare con le imprese vuole prodotti rilasciati, prodotti, servizi, risultati misurabili, coerenti con le performance indicator in apertura ma tangibili nei semestri perché ciò che vuole fare il cluster di rilocare best practice, di agevolare attuazioni di tecnologie disponibili verso la fruibilità sono obiettivi raggiungibili e misurabili nei semestri. raggiungibili e misurabili purché i diversi attori, quelli del cluster ma quelli del polo tecnologico in senso più vasto ma system integrator, start-up, nuove imprese, portatori di interesse, centri di ricerca tutti devono lavorare insieme affinché l'innovazione diventi un habitus costante. Non possiamo innovare solamente quando ci sono i bandi, non possiamo innovare solamente quando ci sono finanziamenti. L'innovazione è un obbligo per tutti i processi, questo è un dogma al polo tecnologico, per tutti i processi perché chi non innova rimane drammaticamente indietro e a me che è dato il compito di coordinare il cluster scienze della vita non sta proprio bene rimanere indietro con un servizio essenziale che è la qualità della vita, la qualità della sanità collegata alla quale dice il presidente Michelangelo Agrusti c'è l'economia e lo sviluppo. Usciamo, io dico, o siamo usciti da un periodo sorprendentemente drammatico, la pandemia, rinforzati in attesa di un nuovo modello di vita, di vita più attenta, più attenta alla transizione ecologica, più attenta alla qualità della vita sana e vita attiva che è la lunghezza della vita, più attenta all'inclusione sociale. Sto citando gli obiettivi dell'S3 che saranno declinati in progetti. Usciamo, dico, da questo periodo drammaticamente oscuro. La mia generazione e quindi chi è più giovane di me non ha vissuto direttamente delle guerre. Noi abbiamo vissuto qualche cosa di simile, abbiamo vissuto delle costrizioni come il fatto di rimanere in lockdown, anche come il fatto obbligatorio del vaccino. È una costrizione, è una limitata interpretazione di perdita di libertà per averne molto migliore e molto più vasta che quella di continuare in una attività sana senza rischi andando a scuola e magari al lavoro senza mascherine, eccetera. Programmi dunque quelli del cluster scienze della vita misurabili perché censire le best practice che ci sono nei nostri centri di ricerca, che ci sono nei nostri istituti per l'inclusione, parlo delle RSA, parlo delle case di riposo, censire chi ha sperimentato con successo teleassistenza, chi ha trovato dei modelli organizzativi o delle tecnologie che sono meno costose, che sono più favorevoli all'inclusione e alla soluzione delle patologie o delle deficienze che ahimè ritroviamo tra i cittadini e tra i pazienti bisognosi di assistenza. Quindi la scelta delle tecnologie già praticate e la loro portabilità verso altri istituti omogenei. Questo sarà un compito che noi vogliamo eseguire in tempi brevi a costi limitati affinché l'inclusione, affinché ci sia anche premialità per chi ha sviluppato qualche cosa definito migliore della media migliore del contesto comune e esporti tecnologie, soluzioni, farmaci del caso per una sanità più efficace, più moderna post pandemica. Nella nostra regione sappiamo che le competenze dei centri di ricerca sono eccellenti alcune, elevate altre, sfortunatamente con non sempre la ricaduta e la portabilità che potrebbe far fruire tutto un territorio di un ecosistema invidiabile e quindi copiabile e quindi esportabile. Abbiamo degli obiettivi di internazionalizzazione del nostro sapere ai fini della sanità. In qualche caso crediamo di poter internazionalizzare imprese o processi che vanno all'estero. In altri casi internazionalizzazione può anche essere invitare e attrarre aziende, esperienze vicine o lontane. Oggi il mondo è globale quindi la vicinanza o la lontananza è un aspetto fisico completamente eliminabile e quindi velocemente importare del valore aggiunto per il nostro territorio e per il nostro ecosistema. Tiro le somme di questo discorso. Il cluster delle scienze della vita non è mai morto, ha avuto qualche periodo di minore attività, oggi riparte con una struttura esile ma integrata con le potenti strutture regionali dell'assessorato al lavoro e istruzione e ricerca, con naturalmente il patrimonio delle imprese che magari non sono big pharma ma hanno idee e hanno potenzialità per contribuire a sperimentazioni e quindi crescere velocemente. Naturalmente il primo beneficiario è sotto il grande cappello della sanità della quale beneficiano tutti i cittadini del territorio. Questa è la nostra promessa, misurare risultati in termini di aggregazione, in termini di motivazione, in termini di sfida in tempi medio brevi per poi consolidare e porci dei traguardi ancora più ambiziosi per proseguire nelle traiettorie dell'S3, per magari conquistare mercati, magari attrarre investimenti e talenti. Va da sé che quando i talenti sviluppati nel nostro territorio se ne vanno può essere interpretata questa fuga dei cervelli come una sconfitta. Io la interpreto come una parentesi perché se magari qualche direttore dell'ICGB va a farsi esperienza ulteriore oltre a quella straordinariamente consolidata sul territorio e poi torna e ci porta anche altri contatti e altre relazioni, il mondo è connesso, il Polo è impegnato nell'ultima sfida. A presto e con ottimismo io spero ci ritroveremo più carichi, più confortati e naturalmente attraverso la tecnologia, attraverso l'integrazione, attraverso l'innovazione migliori. Grazie.